Voglio ringraziare perché con la Presidente von der Leyen ero appunto nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto al G7 a Hiroshima in Giappone e da subito lei ha mostrato la sua attenzione e la sua solidarietà come hanno fatto anche gli altri leader. Voglio anche ringraziare i tanti capi di Stato e di Governo che in questi giorni hanno scritto offrendo la loro solidarietà, la loro disponibilità.